ragazzi buonasera a tutti bentornati qui sul mio canale 1936 solo io stasera mi sta girato lucappella stasera mi sta girato lucappella io ancora riesco a credere a questa vittoria sul campo dell'empoli un empoli che oramai non vince a più di 40 giorni dalla fine di settembre è un empoli in caduta libera nel senso di risultati non so di prestazioni certo è che stasera abbiamo visto un empoli dalle due facce primo tempo per l'amor di dio lasciamo perdere primo tempo bucchi bucchi sta arrivando se non è stasera l'esonero forse la prossima quindi ci siamo secondo tempo un empoli che è entrato in campo più convinto più determinato ha rischiato di pareggiare anche la partita ma un pareggio che secondo me sarebbe stato ingiusto per quello visto in campo fino al 45esimo quando il pescara per tutto il primo tempo ha dominato tranquillamente la partita è andato in vantaggio con beltella sull'azione della calcio d'angolo la raddoppiata galano su una bellissima azione del pescara incominciato dalla sinistra sponda del nostro attaccante per macini che dalla sinistra crossa raso terra sul secondo palo dove galano segna quindi una delle classiche azioni del pescara di zauri adesso con questo 4 3 2 1 facciamo ancora i complimenti al mister perché finalmente forse abbiamo trovato la quadra di questo pescara che fino a quattro partite fa era in pratica la brutta copia di se stesso io adesso non posso altro che fare i complimenti al mister che gli avevo detto che se le cose andavano bene io ero il primo a essere contento sono arrivato a tre partite fa a auspicare che perdessimo per cacciarlo perché erano le prime dieci partite veramente lo schifo più totale le prime nove partite e adesso siamo alla dodicesima sono le ultime tre partite il pescara è cambiato da così a così da quando ha capito di far giocare macin insieme a garano dietro l'unica punta abbiamo abbandonato il 4 3 3 il 3 5 1 1 che viene riproposto soltanto in alcuni tratti di partita come oggi nel secondo tempo quando poi è uscito palmiero e abbiamo in pratica cambiato il modulo quindi devo fare i complimenti al mister e poi magari a fine anno dovrò anche chiedergli scusa io comunque rimango del parere che questo pescara a inizio anno doveva fare queste prestazioni cosa che non erano mai avvenute e quello che mi lasciava più perplesso raga parliamoci chiaro era il non gioco di questa squadra una squadra che era partita in ritiro per giocare il 4 3 3 non siamo riusciti mai a far a giocare partite giuste con questo modulo allora se voi dovete io devo giudicare un allenatore in base al gioco della squadra a ciò che era stato preparato durante l'estate in base ai giocatori presi al gioco al tipo di gioco che c'era stato proposto che si voleva fare e allora vi dico che zauri doveva essere cacciato adesso il mister ha trovato la sua dimensione la dimensione giusta di questa squadra ha trovato la quadra non so se per merito suo grazie ai giocatori che magari hanno parlato insieme a lui e hanno fatto quadrato e quindi hanno trovato una soluzione qualcuno all'interno della società si è detto zauri avasta yukakuci queta yukakuya ha detto qualcun altro io non lo so so soltanto che questo pescara è cambiato in meglio in modo positivo non posso far altro che applaudirlo e non posso far altro che essere contento delle prestazioni di questa squadra che finalmente stati sta facendo e sta giocando come lo spiegavo io andandosela a giocare su ogni campo in ogni partita cercando di vincerle tutte non so che non è possibile però andando in campo con lo spirito di andarsela a giocare quando zauri dopo la sconfitta con il crotone dopo la sconfitta con lo spezia in casa va ai microfoni e parla ai giornalisti in pratica giustificando quelle sconfitte dicendo il pescara era una squadra più scarsa del crotone che lo spezia era una squadra più attrezzata del pescara ah però allora adesso il pescara è più attrezzato dell'empoli e del benevento squadre con cui abbiamo vinto allora capite la mia critica al mister dov'era cioè non datemi del visionario del pazzo cioè se all'epoca criticavo aspramente zauri e perché zauri non ci stai a capire un cazzo cioè ma non solo nel rettangolo di gioco cioè non sta capendo un cazzo neanche in televisione quando andava a parlare quando diceva le cose cioè parlare del pescara come una squadra da salvezza ma veramente la capenza del pescara era una squadra da salvezza una rosa salvezza voi dovete andare adesso tutti quanti a rivedervi quello che dicevo io ad agosto prima che finiva il mercato quando ho fatto le analisi di tutte le squadre ho fatto un'analisi squadra per squadra andatevi a rivedere la mia analisi del pescara e vedete un po' cosa vi dicevo di questa squadra che dicevo che secondo me era una squadra che doveva in pratica prendere coscienza della propria forza doveva in pratica capire quando era forte e vi ho detto che secondo me con l'innesto di qualche arrivo che poi c'è stato e non c'è stato potevamo giocarcela e potevamo far paura a tutti perché potevamo sfondare il culo alle papere purtroppo si è fatto male il centro avanti purtroppo per tanto tempo abbiamo avuto palmiero infortunato ce l'abbiamo ancora infortunato palmiero perché ogni stanta partita sto ragazzo adesso ha questo problema al ginocchio della partita di cosenza maledetta quella partita è maledetto quel campo che veramente ammazza è ammazzato un po di giocatori anche se io non do la colpa al campo e non voglio prendere scuse però è anche vero che lì si sono fatti male diversi giocatori in quel campo purtroppo per noi si fecero male col cosenza palmiero e tuminello che si ruppe il ginocchio e da lì sono cominciati anche i problemi nostri di un pescara che magari non ha potuto mai giocare con gli stessi punti a sebasti queste sebastiani che i fischi li recchi e mi sta manda che mi sta mandando gli accidenti comunque con la perdita di tuminello e con la perdita anche di palmiero anche vero che zauri comunque non ha potuto mai lavorare con una squadra fissa con tutti gli undici effettivi e provare lo stesso modulo da quando stiamo giocando in questa maniera adesso abbiamo inquadrato un pescara un undici base quindi diciamo che la squadra sta anche rispondendo bene adesso possiamo dire che sappiamo bene o male quali sono i titolari del pescara sappiamo le caratteristiche che sta squadra vediamo come giochiamo abbiamo capito che giochiamo con due persone dietro l'unica punta e con i centrocambisti che si inseriscono abbiamo tanta tecnica davanti dietro siamo molto attenti bene scognamiglio e bettella oggi senza nessuna sbavatura l'unica sbavatura di scognamiglio verso fine partita quando poi manguso per poco non ci pare già però devo dire squadra perfetta dal primo all'ultimo castrati oddio un po di castrati un po di agitazione ce la mette perché non ci dà mai quella sensazione di sicurezza che poi si dà fiorillo però devo dire che anche oggi il suo compito l'ha fatto è stato attento ha guidato bene la difesa forse una leggera sbavatura è stato poco reattivo nell'azione del gol di desi ma raga il gol di desi era fuori gioco quindi era da annullare e avremmo chiuso il primo tempo sul 2 a 0 però forse finire sul 2 a 1 è stato anche una fortuna perché perché magari abbiamo giocato un secondo tempo con più attenzione anche se l'empoli nei primi 20 minuti del secondo tempo ci ha fatto male ci ha fatto male ma adesso andiamo a parlare di questa partita e diamo le formazioni le formazioni l'empoli il campo con il 4 3 2 1 o 4 3 1 2 con brignoli in porta veseli romagnoli maglietta e balcovecci in difesa frattesi ricce bandineti al centrocampo dezzi con lagumine mancuso lì davanti il pescara invece è andato in campo con la stessa con lo stesso modulo con due punti con due mezze punte dietro a borrelli che era l'unico attaccante con castrati in porta ciò fanno i bettella scognamiglio e masciangelo in difesa memusha i palmiero e crecco macin insieme a garano dietro a borrelli raga la partita il pescara primo tempo ha giocato veramente bene un tempo lì che non riusciva a giocare che non riusciva a costruire noi abbiamo recuperato 20 tanti pallone al centrocampo ma jin è stato bravissimo a scambiarsi tanti pallone a creare tanto con galano memusha i bravissimo a recuperare tantissimi pallone a districarsi al centrocampo avanti indietro a destra a sinistra a tutte le parti bravo memu palmiero bravo nella gestione del pallone nel giro palla nell'inizio della costruzione della manovra bravo anche masciangelo che a me mi sta piacendo tanto e quando vi dicevo io che non bisognava giudicarlo a priori ma invece dovevamo attendere sto ragazzo che di cui vi avevamo parlato già bene di quando giocava a piacenza io direi anche bene la prova di crecco non era facile sostituire busellato busellato che nelle ultime partite si era visto si era sentito in mezzo al campo bravo a recuperare tanti palloni ma anche tanto bravo a inserirsi quindi bene crecco oggi che si è mangiato secondo me due azioni dove potevamo andare sul 3 a 1 quindi chiudere la partita devo dire che raga ripeto primo tempo da parte del pescara oggi il pescara ha giocato la partita secondo me migliore di tutta la stagione un primo tempo veramente impeccabile abbiamo gestito il pallone abbiamo l'abbiamo sbloccata non fortunatamente per fortuna il diciannovesimo calcio d'angolo bettella di testa ha azzeccato il colpo di testa sul secondo palo messo all'angolino 1 a 0 pescara poi questo che raddoppio subito al 32esimo ve l'ho già detto un'azione partita da mascianzo sulla sinistra passaggio centrale per borrelli che spalla la porta allarga per macin macin sulla sinistra cross raso terra sul secondo palo dove galano tutto solo segna il goal del 2 a 0 per tutto il primo tempo l'Empoli non ha fatto un solo tiro in porta hanno segnato sull'unica occasione nata grazie a un tiro da fuori deviato non ricordo da chi calcio d'angolo cross in mezzo sul primo palo la sfiora Mancuso nel momento in cui Mancuso la sfiora Dezzi è davanti a castrati in fuorigioco dopo il tocco di Mancuso circa una palla memushai è un altro giocatore del pescara la palla rimpalla su castrati e poi Dezzi la butta dentro ma il goal era irregolare perché il giocatore era in fuorigioco nel momento in cui Mancuso tocca il pallone quindi il goal era da annullare subito dopo prima di finire il primo tempo c'è un'altra super occasione con la gumina che ha tu per tu castrati su un cross dalla destra non riesce a buttarla in rete la palla esce veramente di un centimetro fuori quindi si chiude il primo tempo con pescara che ha dominato tutta tutta la prima frazione in gioco tranne gli ultimi due minuti dove l'Empoli segna il 44esimo con Dezzi in fuorigioco due minuti dopo il 46esimo la gumina si è mangiato un goal come una casa anche se però il pareggio sarebbe stato veramente un regalo di San D'Antonio dico io per l'Empoli secondo tempo rientriamo in campo l'Empoli è rientrato con un altro piglio l'ha cercata subito di mettere con l'agonismo con giocate in velocità ci ha prestato veramente alti sono riusciti a schiacciarci per i primi 20 minuti dove il pescara non riusciva più a uscire dalla propria metà campo hanno tirato tanto in porta hanno tirato tanto però fuori lo specchio della porta non hanno quasi mai centrato lo specchio della porta anche perché si è andato a vedere castrati non ha fatto parate c'è però do manguso qualche colpo di testa uscito fuori un tiro fuori da fuori area di stulac c'è stato un palo di bandinelli con Dezzi che con giropalla dal limite dell'aria passa sulla sinistra bandinelli prende calcio sul secondo palo palo fuori quindi l'Empoli poteva subito pareggiarla invece la partita poi ha ripreso un po la falsatica del primo tempo con un pescara che comincia a giocare il pallone si è alzato è stato sostituito palmiero con castanostro poi è uscito macin per un problema forse muscolare comunque per precauzione abbandonato il campo è entrato drudi abbiamo giocato con siamo passati con il 5 3 2 5 3 1 1 chiamatelo come volete con i due esterni e la coppia di centrali scognamiglio bettella e drudi castanostro al posto di palmiero in cabina di regia e lì davanti avevamo galano a supporto di brunori che è entrato al posto di borrelli brunori che secondo me è stata una mossa azzeccata perché borrelli poi per tutta la partita non ha preso palla romagnoli lo ha marcato bene invece secondo me potevamo puntare un po prima anche su brunori per giocare un po sulla velocità comunque è andato bene così la partita si poteva chiudere ripeto due grosse occasioni per crecco che se le maniate tutte e due e poi la sbavatura piccola sbavatura finale con scognamiglio che liscia un po il pallone arriva la palla mancuso che da dentro l'area tira subito mi pare di sinistro al volo la palla esce di tanto dall'incrocio poteva finire 2 2 poteva chiudersi 3 1 per il pescara se il gol del l'empoli il primo tempo non fosse stato convalidato probabilmente la gara sarebbe stata diversa è stata una partita dove gli episodi comunque hanno anche condizionato perché l'empoli la poteva pareggiare ma come anche noi la potevamo chiudere nelle nostre ripartenze io dico che il pescara ha fatto la partita perfetta e che il primo tempo l'ha dominata sul piano del gioco tant'è che io ripeto l'empoli è stato fischiato è stato contestato sono stati contestati giocatori bucchi è a un pelo dall'esonero è una squadra irriconoscibile l'empoli non ha giocato è stato sul classato a livello di gioco il primo tempo dal pescara secondo tempo forse il pescara ha cercato di gestirla più la partita cercando di riprendere palla e ripartire più in contropiede gli è riuscito un po poco all'inizio un po meglio poi quindi bene il pescara male l'empoli che sicuramente in casa deve fare di più è una partita come questa inizionando l'empoli ci ha sfondato le chiappe le papere quando abbiamo siamo stati limiati in gol pitalia che facciamo quel gol con tumminello sulla cazzata di maietta quindi vi dico vi dico ora come ora prendiamoci questa vittoria che è oro colato raga è oro colato e con i risultati di oggi con il pisa che ha vinto con lo spezia con il benamento che ha pareggiato a castellammare il perugia che ha perso in casa col cittadella e l'entella che ha pareggiato col pordenone vi dico che è oro colato perché adesso siamo in pratica al quinto posto insieme a un sorprendente pordenone che io inizio anno vi dicevo che era cura delle rivelazioni del campionato che il mister dionisi era bravissimo il pordenone quarto in classifica il cittadella che vince a perugia e terzo a 20 punti riprendiamo cioè stiamo in scia al crotone che ha 21 quindi siamo a soli due punti vi ricordo però che sia il chievo che la satanitana devono ancora giocare loro sono a 18 quindi potrebbero arrivare anche loro a 21 quindi potremmo scendere un classifica comunque è un pescara che finalmente occupa ed ha un ruolo importante in questa serie b io adesso vi saluto raga mi raccomando pollice in su supportatemi condividete questo video se ancora l'avete fatto vi invito iscrivetevi al mio canale 1936 io qui sotto c'è il pulsante iscriviti vi ricordo che in descrizione trovate il link alla mia pagina facebook al mio instagram al gruppo di voci del pescara pescadesi convinti e c'è soprattutto la pagina del mio amico giampiero spex ride bike 360 per imparare a conoscere il mondo delle biciclette il mondo delle due ruote 360 gradi ci vediamo nei prossimi video io vi rinnovo i miei saluti buona terribia a tutti e sempre forza pescara ciao